buona a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esporicelo allora un liquido preso albapitali si chiama avors q chocolate un aroma da 15 ml che abbiamo aggiunto nella basetta nostra abbiamo miscelato è un cioccolatoso micidiale andiamo a fare la prova di svapo di questo liquidotto da vapor art vai gabrie io andrò a provare sulla mac pro e il druga e io sulla wismac con il gun 1.5 buonissima mi piace un po' cioccolato spalato mi ricordo al cacao buonissima sai cosa quando fai quel budino che ci rimane la crosta davvero il pentolino che con il cucchiaino lo vai a mangiare a mangiare c'è quel sapore lì un cioccolatoso della madonna che voto ci dai gara? mi do un 9 io l'unico problema di questo liquido qua che essendo nero gli sporca un botto il cottone eh vabbè però però un liquido soffrono merita è logico un po' più sporco allora dalla taverna dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo una pagina su instagram e su facebook veniteci a trovare ciao 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 ciao